Quando tu parli in inglese, hai un accento britannico o americano. Vediamo come tu pronunci queste parole. Tu come dici questa parola? Hai detto vase o vase? E questa parola? Hai detto tomato o tomato? Questa parola? Hai detto address o address? Hai detto zebra o zebra? Hai detto zed o zee?